La giornata è fantastica, oggi abbiamo avuto tanta energia, il segretario generale ci ha con le sue parole dato tanta motivazione, ha voluto personalmente consegnarci la convenzione dei diritti della persona con disabilità e questo per noi è un grandissimo onore. Oggi il progetto WOW credo proprio spicchi il volo, questo ci permette di partire per l'attraversata atlantica ormai prossima con tantissima voglia, con tantissimo coraggio e convinti della nostra missione che è quella di portare questa convenzione a Papa Francesco e di far sì che questa convenzione sia sempre più conosciuta, sia sempre più applicata e sia sempre più garante dei diritti di tutti. Grazie mille! Grazie!